Incidente automobilistico per Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi Durante una serata speciale in Sicilia, i protagonisti del Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, sono stati coinvolti in un piccolo incidente automobilistico, prontamente documentato dai fan presenti. I due erano stati invitati a un evento, e una folla di ammiratori li attendeva all'esterno del locale, curiosi di scoprire se le voci sulla loro relazione fossero vere.Recentemente, si era parlato molto della coppia. Dejanira Marzano, nota esperta di gossip, aveva ricevuto una segnalazione una settimana fa, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi insieme a Roma termini alle 16 di oggi. In precedenza, i due erano stati avvistati mentre passeggiavano per le strade della capitale. Durante una puntata di Gente di Marte, su Radio Marte, Marzano aveva rivelato Sono fidanzati ufficialmente, hanno passato due giorni a Milazzo, dove venerdì avevano un evento, e hanno trascorso una notte in hotel. Giuseppe Garibaldi aveva dichiarato apertamente i suoi sentimenti. Sì, sono innamorato e cerco di riconquistarla, perché voglio vivermela come non sono stato in grado di fare nella casa. Stavolta non permetto a nessuno di influenzarmi sul nostro rapporto. Beatrice Luzzi, da parte sua, aveva aggiunto. Tra noi, come ho sempre detto, c'era un legame antico. Non so se vi è mai capitato di incontrare delle persone ed avere l'impressione di conoscerle da tante vite, quindi adesso si tratta di capire come integrare questa antica vita alla vita moderna. Punto l'incidente è avvenuto il 12 luglio, al termine della serata. Dopo aver posato per alcune foto di rito, Beatrice e Giuseppe sono saliti su un'auto con il simbolo della P di principiante sull'unotto posteriore. Durante la manovra per uscire dal parcheggio, l'auto ha urtato un ostacolo. Una fan a Canita, che gestisce una pagina Instagram dedicata alla coppia, ha catturato l'intero momento in una diretta video. Nelle immagini, si vede Garibaldi salutare i fan prima che l'auto colpisca qualcosa. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell'incidente, a parte il danno all'auto. Grazie a tutti.